Ringrazio anche a nome di Alessandro, anzicutto all'Arcipescovo, per le parole che ci ha detto, che ne abbiamo tanto bisogno, parole di apertura, di andare incontro agli altri. E lo ringrazio pure per l'impegno che il Vescovo vede nella pastorale vocazionale. E poi ringrazio tutte le persone che hanno collaborato sia liturgicamente, in particolare il ruolo pubbliciale e il ruolo pubbliconico, e sia le persone che hanno partecipato materialmente, tutte le persone presenti e le persone che non hanno potuto partecipare, in particolare i anziani malattie, che hanno sicuramente partecipato spiritualmente da casa. Ricordo Don Antonio Zai che ci ha seguito da da su e continuerà a seguirci e così anche Don Francesco Borgo, mio immediato predecessore, che sempre dal cielo ci accompagna nel nostro impegno pastorale e vocazionale. Ringrazio tutti i sacerdoti e seminaristi della loro preghiera, della loro partecipazione, e vi invito tutti in un momento di fraternità nel Salone Parrocchiale. Ringrazio tutti i nostri amici. Ringrazio tutti i nostri amici. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.